buongiorno il cile ciao ciao è un piacere rivederci è un piacere riaverti perché quando vedo il cile mi viene un po di nostalgia perché ascoltavamo le tue canzoni per tanti anni le abbiamo ascoltate le ascoltiamo ancora ora sei tornato con questo nuovo percorso però che richiama anche quello precedente sei tornato alle origini ma guarda sì perché era quello che cercavo di fare io avevo già un'idea di come muovermi prima del covip e però ho preferito di non uscire in quel periodo lì che ormai sono tre anni perché sapevo le difficoltà del caso e l'ho visto anche con conoscenti che hanno provato a uscire con tutte le limitazioni e che è successo che come spesso accade finita questa cosa della pandemia il disco che avevo ormai non era quello che mi rispecchiava io ho continuato a scrivere ho conosciuto un giovane producer con cui scrivo anche insieme che si chiama bumbo un ragazzo di aprilia e c'è stata una connessione che in tre mesi ci ha fatto fare un disco ho incontrato bonnot che è un un altro discografico barra produttore con cui ho avuto a che fare in passato per altre collaborazioni che aveva questa nuova etichetta mi ha fatto una proposta di di camminare insieme su questo percorso e l'ho trovata consola quello che volevo fare ok ok quindi è arrivato con questo nuovo brano che si chiama ma che musica c'è eh sì esattamente quindi noi ci poniamo questa domanda che musica c'è sì ma che musica c'è allora sì il titolo potrà rin inganno in realtà non è una disamina sulla musica attuale è il fatto era una mia riflessione il desiderio era di ripartire con un singolo che potesse comunque fare dare accordo con le mie cose vecchie e questa mi sembrava la canzone sia me sia walter bonnot di sei dei dischi dell'etichetta sia a bumbo che la prodotta è scritta insieme a me ci sembrava il tradunione migliore con quello che era il sound dell'ultimo disco che è stato il mio forse meno meno ascoltato però volevo subito ripartire mettendo in luce quello che è stato forse l'imprinting iniziale del mio stile cioè fare un testo in cui non avessi filtri e fossi più crudo e diretto possibile e che è quello che poi il mio pubblico ha sempre richiesto nel corso del tempo cioè che mi ha sempre fatto notare che che avrebbero voluto sentire e quindi ma che musica c'è un po' un così uno stream of consciousness di tante riflessioni sulla mia carriera sulla mia vita su quello che riguarda il mondo che ci circonda è nato in un momento in cui mi riascoltando della musica così per passatempo perché mi rimane sempre più difficile facendo anche l'autore eccetera viverla come un passatempo come facevo ad adolescente mi sono reso conto che la bellezza della musica quando crollano le sovrastrutture di un lavoro di una professione è universale e immortale e questa è ma che musica c'è fa stare bene anche me nonostante i tormenti nonostante il mio carattere diversamente tranquilli sì sì anche perché poi abbiamo notato anche noi un cambiamento da qua da allora ad oggi ci sono tantissimi nuovi brani di tanto di tanti generi tu hai notato questo cambiamento un cambiamento in positivo o in negativo allora diciamo che dopo maria salvador ovviamente per una grande fetta di pubblico era una persona tant'è che io ho sempre amato il rap ho collaborato con tantissimi rappresentanti e di cui sono fan hax tra quelli però ovviamente ti si apre una fascia di pubblico che è diverto anche a quella di quella che poteva essere mia del cantatorato di fan del cantatorato in questi anni si è creato il genere indie pop che adesso significa tutto quello che concerne lo stile italiano chitarristico meno chitarristico urban quando io sono uscito nel 2012 c'era ancora molto più di vario tant'è che io che senza talent passavo il radio venivo visto a volte da alcuni del settore come un venduto quando ora è la normalità magari vedere il gen circostato a remo brunori su rtl ascoltarlo prima e devo dire che forse qui è stato sono stati dei giornalisti a sdoganare questa divisione ad abbatterla e a far sì che la musica italiana in ogni suo connotato potesse potesse diventare sia commerciale che indie intesa come un qualcosa che si vuole distaccare dalla classica canzone pop ritornando a me sulle collaborazioni e da lì mi si è aperto un mondo dopo Maria Salvatore di tanti artisti che con cui comunque ho avuto contatti o conoscenze che che mi hanno chiesto di lavorare ripeto come collaborazioni intese come featuring io ho questo problemino che faccio fatica a dire di no però ho sempre lavorato con le persone con cui con cui mi trovo bene sia artisticamente che umanamente è ovvio che il rischio del cliché dopo Maria Salvatore di diventare un artista da ritornello era forte poi c'è stato appunto questo intoppo del covid che non mi ha permesso di tornare con qualcosa di mio e effettivamente per un periodo io ho avuto anche questa fisima come si può dire del capire se avessi forse premuto troppo l'acceleratore sull'azzo non propriamente vicino a quello che è il mio vero stile che è comunque di una persona che compone con una chitarra o con un piano forte però ripeto secondo me nel mio lavoro specialmente e per questo mi sono sempre tenuto fortemente aperta anche la porta autorale io sono una persona che cerca i risultati a lungo termine e non mi piegherò mai a costo anche magari di mantenere una carriera se si può dire media al concepire la musica solamente come un prodotto perché lo è come tutte le cose che poi vengono vendute però nasce comunque da da un umus e un moto interiore secondo me legato a qualcosa che è artistico e che muove delle corde dell'anima e per questo io ritengo che ci sia spazio per tutto nel creare specialmente al giorno d'oggi con tutte le possibilità tecnologici con tutta questa società anche virtuale ipervelocizzata di avere un eclettismo maggiore che prima non si era permesso l'importante poi non tradire quello che è il tuo essere primario che ti ha portato al tuo pubblico e è quello che vorrei fare con questo disco io ho letto che comunque entro fine anno ci sarà un disco quindi anticipiamo anche questo ci saranno delle collaborazioni ad esempio al momento no al momento io come ho fatto in tutti i miei dischi e l'ho concepito come un lavoro mio però ripeto anche da questo punto di vista sia talmente evoluzione è stata un'evoluzione talmente violenta del concetto di disco che ormai il disco più un raccogliere dei brani parallelamente uno può far uscire anche delle cose extra disco che siano collaborazioni e cose perché proprio la scomparsa quasi a breve definitiva del fisico ha dato proprio una costa totale a questo concetto mi sto lavorando anche con altre persone poi quello che verrà fuori se finirà in un mio disco o nel loro disco lo capirò lo vedrò però al momento la rosa dei brani perché hanno certo uno si deve fermare perché non voglio rifare l'errore di questo di avere lasciato a parte un disco come ho fatto in quel periodo di stallo nella rosa dei brani sono tutte canzoni già scritte da me insieme a bombo cioè che andrea palumbo questo produttore collaboratore musicista anche live che lavora con me e e hanno già una linea stilistica di contenuti di sound poi ripeto io non sono una persona che si dà dei paletti però riconcentrarmi su me stesso anche come figura esposta ci tengo ok anche perché poi era così interessante il sound quindi per chi magari ti ha conosciuto solo per quei featuring quindi pomaglia salvador eccetera che stile musicale troverà in questo singolo ma magari anche nel disco che ci sarà io credo che una regola che ci siamo dati io e andrea appunto bombo il producer e collaboratore e coautore di molti brani è che ci deve essere dal punto di vista arrangiativo un parallelo emotivo non deve essere solo un vestito non ci deve essere una rincorsa al sound del momento come spesso accade nel nella produzione major ma lo capisco perché se funziona ripeto e sono due modi di vedere il gioco della music game cioè come prodotto e come con una durata una scadenza o come qualcosa che può restare non è detto che una sia giusta e l'altra sia sbagliata sono due modi di vedere questa prospettiva a seconda anche delle corde emotive di chi interpreta io non riesco e devo dire che i passi che ritengo farsi delle mie cose soliste sono proprio quelle in cui tra virgolette ho subito pressioni per scimmiottare un sound per cercare di di stare tra virgolette al passo coi tempi di quel momento che poi come abbiamo visto sono tempi brevissimi perché una cosa che va nel mondo urbano ancora di più ma una cosa che funziona un mese già due mesi dopo a livello di sound può diventare noioso perché una canzone di vasco da 40 anni la cantano tutti perché comunque in quella struttura arrangiativa di creazione di lavoro sulla melodia e tutto si crea qualcosa di universale come su alcuni brani rap rimarranno per sempre non tutto ma alcuni si quindi l'arrangiamento secondo me il sound deve essere in funzione del di quello che voglio esprimere sia come testo sia come idee sia come messaggio e questa è una regola che ci siamo dati quindi non pensare è però su questo suona vecchio non la paura deve essere questo suona male non questo suona meglio sì è vero anche perché poi c'è questo rischio questa corsa alla produzione di brani brani comunque a scadenza breve perché già brani che sono usciti l'anno scorso che abbiamo dimenticato appunto quelli di vasco durano per anni anni certo ma come di tanti altri come anche nel mondo alternativo del lindi vero degli anni 90 un brano dei bostelli come scusami dei after hours come non è per sempre o un baranno dei bostelli per dire che non è che necessariamente deve essere qualcosa da radio io quello che ci tengo a dire che ovviamente il progresso porta delle possibilità e lo vediamo adesso anche con l'intelligenza artificiale che che già potrebbe quasi fare un disco da solo da sola porta delle possibilità però se svuotiamo totalmente il concetto di musica di produzione musicale dall'anima e dalla mente umana secondo me diventa veramente solo un sottofondo cioè come musica di sottofondo che serve per far fare meglio come succedeva negli anni 60 70 il latte alle bucche che si risero conto che con la filodiffusione producevano di più però se ci limitiamo a vedere nella musica solo questo credo che diventi una castrazione forte per il messaggio cioè il pathos che ha sempre portato qualcosa che esiste dai tempi primordiali cioè il concetto di suono musica note poi dal periodo della musica classica e poi cioè non è come uno sport la musica cioè se non a caso è stata concepita come arte tanto quanto la pittura è perché comunque è uno di quei meccanismi che hanno elevato l'uomo ha elevato il genere umano e quindi non si può secondo me ridurre solamente anche se può essere anche solo quello a intrattenimento Sì anche perché poi tu questo confronto generazionale lo dici anche appunto nel brano che appunto hai presentato anche il tuo percorso di gavetta che hai fatto quindi comunque è un testo molto importante quindi come nasce appunto l'idea di proporre già subito questo? Guarda io non è tanto che volevo creare col testo una contrapposizione generazionale anche perché le generazioni sono incontrollabili cioè è inutile fare un paragone con i miei bisnonni che hanno vissuto magari delle guerre mondiali e avevano dei valori e dei modi di vedere diversi da un ragazzino che ha imparato a leggere e scrivere con uno smartphone è qualcosa di stupido le generazioni esisteranno sempre esisterà sempre un confronto che tende a dire era meglio prima eccetera eccetera quello che a me preoccupa è qualcosa che cioè come magari a un mio genitore che ha avuto i genitori che hanno fatto la guerra e terrorizza il pensiero del contesto in cui sono cresciuti ovvero bombe eccetera a me terrorizza il pensiero che questa alienazione dei giovanissimi nasce da questa transizione che ti sta facendo verso una vita virtuale sempre più preponderante nei confronti di quella reale e questo secondo me c'entra anche la musica proprio per il fatto che nel momento in cui accettiamo di scendere a fatti totalmente col virtuale e accettiamo di dare al mondo virtuale la primaria importanza più della vita reale perché ci dà più soddisfazioni ci dà la botta dopaminica del like del sentirci qualcuno che mai saremo nella vita reale perché la vita reale ci porta sempre più costruzione viviamo in momenti difficili eccetera eccetera porterà anche le le arti intese come scrittura intese come musica come anche la i che fa i disegni stessi a diventare un qualcosa sia sotto appunto un controllo virtuale maggiore e più e in più secondo me svuotate da dall'umanità da quello che è c'è poca emozione il moto insinore delle persone e cioè in dieci anni dal 2012 quando una canzone di tre minuti e mezzo era lo standard per la radio ora siamo già a dei discografici che ti dicono che hai due minuti e mezzo cioè tra dieci anni che si arriva a due minuti allora si fa solo un ritornello si fa solo uno slogan questo secondo me è pericoloso nella misura in cui si cerca di preservare il messaggio umano che si sa l'arte ma io non sono nemmeno un disfattista alla musica volevo dire non sono nemmeno un disfattista perché comunque la musica è sempre stata fatta di cicli negli anni 80 c'era c'erano i duranduran che erano una grande band tecnicamente ma c'era anche tanta musica intesa proprio come usa e getta di succedani appunto dei vari durand, spandau oppure l'air metal, roba così però dopo è arrivato il grunge, dopo è arrivato un tipo di pop urbano di strada quindi negli anni 90 quindi la musica è fatta di cicli non la puoi controllare c'è caso che tra dieci anni le canzoni torneranno a durare cinque minuti e è quella la bellezza la bellezza dell'evoluzione è vero, è vero, poi comunque tornando al tuo di percorso adesso ovviamente non vediamo l'ora di vederti live, quando ti possiamo vedere live? ma io credo che a questo punto ora abbiamo in questo senso fatto delle cose diciamo così di showcase, cose del genere però ci aspettiamo l'uscita del disco per fare proprio un tour strutturato come volevamo io e la mia band che già comunque ci sta preparando appunto, il singolo è uscito il 7 luglio, riscontri, com'è andato questo ritorno? ma guarda, mi ha fatto piacere intanto essere entrato nelle periodistie editoriali di Spotify in due, addirittura New Music Friday e Novità Rap che per me è una piccola medaglia perché sono sempre stato visto come l'ibrido strano quando lavoravo con i rapper e finalmente qualcuno che in teoria decide le sorti della musica di oggi mi ha dato questo piccolo riconoscimento il pubblico mi ha fatto notare che sono tornato a fare quello che cercavano perlomeno il mio pubblico e ovviamente ora c'è da lavorare, c'è da non stare fermi ma avevamo pianificato tutto a suo tempo quindi siamo, come si suol dire, presi bene dalla situazione carichi sicuramente allora per concludere l'intervista ti chiedo quali sono i tuoi obiettivi e sogni di quest'anno magari dell'anno prossimo guarda, fare uscire il disco che è stata la mia colonna d'Ercole da appunto prima del Covid che si chiamerà il Giro Largo si chiamerà anche il Giro Largo tra l'altro che è una citazione che poi alcuni coglieranno di una serie che si chiama Boris e da lì poi ricominciare a fare quello che posso fare poi ho già, come ho detto, delle collaborazioni sia autorali che da me si ho messo in atto e vediamo poi che succederà con quelle cose lì se mi chiedi Sanremo, Sanremo è quelle cose tipo Cabala che non sai mai se provarci meno se c'è qualcosa che ha senso di proporre come ovviamente collaborazione perché ci vuole di arrivare strutturati magari il tentativo si fa però, ripeto, non è questo adesso la mia visione concreta delle cose è continuare a fare quello che sto facendo con le persone con cui mi trovo bene che sono con cui lavoro ora in maniera continuativa mi hai detto nella mente perché una domanda che dovevo fare era su Sanremo perché comunque molti ritorni ci sono stati ultimamente quindi tra po' le chiare eccetera che poi hanno comunque portato fortuna perché stanno facendo un bel percorso ecco perché mi sono chiesto se fosse comunque il momento anche di lanciare un progetto anche a Sanremo sai, ripeto, sicuramente da solo la vedo difficile perché io ho un retroterra meno voluminoso rispetto a un Paolo e Chiara eccetera però se nasce una collaborazione che può essere interessante un tentativo si fa poi, ripeto, è una cabala Sanremo non sai mai come va a finire anche le persone io anche in passato qualunque sia la direzione artistica io lo feci nel 2013 un'esperienza dura dal punto di vista di fatica discografica però bella che mi ha dato anche delle soddisfazioni premio Bardotti eccetera però conosco anche anche di prima che lo facessi io persone che mi raccontavano che fino all'ultimo era quasi sicuro che ci fossero e poi hanno visto i nomi e non c'erano quindi su Sanremo vale veramente il mai dire mai è giusto così perché fa parte del gioco ovviamente adesso non vediamo l'ora di scoprire questo progetto discografico io credo che ci saranno altri singoli fino a quel sì 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 ci dovrebbe essere un altro singolo e poi un altro insieme all'uscita del disco quindi non vediamo l'ora che sarà verso ottobre quindi sì sì c'è tanta roba ti ringrazio grazie a te no vediamo l'ora di scoprire il disco a questo punto ciao a presto ciao ciao ciao